Una domanda importante, quando sarebbe bello fare un video tutorial in cui spieghiamo, commentare su Discord e su Borghiem Arena per organizzare sessioni di gioco a tavolo online con la community? Sarebbe bellissimo! Stufo della solita routine da pandemia? Ti manca qualcuno per poter fare giochi a tavolo? I Rolling Gamers hanno la soluzione che fa il caso tuo! Mamma mia che voce strana! Avrai bisogno di due cose, innanzitutto di Discord, se non sai cos'è, è un'app che ha tante utilità, la principale poter parlare Quindi vai sul sito discord.com e clicca scarica, installalo e registrati Fatto? Bravissimo! Discord è pronto, adesso bisogna entrare nel nostro server Ora vai su Twitch, cerca TheRollingGamers Sì, proprio questo, clicca informazioni e clicca sul banner Discord Bene, ora sei dentro al server TheRolling, clicca su un canale vocale, quello con lo speaker E sbadabam, come una catapulta, sei pronto per parlare con noi e dire cose del tipo Si, ok, tutto bello finora, ma per giocare vai sul sito BoardGameArena, clicca login e registrati Ora sei ufficialmente pronto per giocare con noi, eccoci un esempio di una partita Dai, 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 io ho capito com'è sto gioco Cixlook, madonna che saboter Cixlook Madonna, mamma, mi ha scioccato subito Oh, beh dai A casa mia si dice saboter Saboter Guarda, è il saboter Renato, guardalo che saboter Non vi preoccupate, non vi preoccupate ragazzi, ci pensi Ho pescato una carta che c'è scritto Bazzucca Gianluca, vedi, il blocco funziona così, se hai una carta, vai sotto l'icona di brecocca, c'è la carta da lanterna, clicca la lanterna e si blocca Ah, ok, grazie Prego Ricordatemi che semmai dovessi andare in miniera con voi mi devo portare dietro un revolver Varo attimo a aprire il regolamento scartaceo Stai mangiando proprio il nano nella miniera che fa Devo controllare il manuale Vai bregò, vai bregò Ora ci vedi bregò Abbiamo un problema Eh no Ma tu hai visto che le carte si possono girà? Bregò, le carte si possono girà, bregò Stiamo vinti, abbiamo vinto ragazzi Dai, fai la rivincita, dai, abbiamo capito come si gioca Questo è il gioco mio Bene, a questo punto rimangono solo due cose da dire Quando potrai incontrarci? Seguici sui vari social per rimanere aggiornato La seconda, beh, è ovvio GG Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.